Il corso completo per la Salernitana che dopo aver guadagnato la salvezza in anticipo riesce a frenare anche la corsa della Roma verso la zona Champions imponendo un 2-2 anche con qualche rimpianto perché i Granada sono andati due volte in vantaggio e con un pizzico di buona sorte avrebbero onestamente meritato anche di uscire dal campo con i tre punti magari anche un po' l'arbitraggio a senso unico, qualche piccola ingenuità nel finale, alcune delle seconde linee che sono entrate, alcuni dei rincalzi che sono entrati nella seconda frazione di gioco non hanno dato lo stesso contributo dei titolari magari c'è stato un calo anche inevitabile per carità, la Salernitana giova a gran ritmo però magari sono venuti meno i subentrati che non hanno dato quello che si sperava e probabilmente ecco in questo la Salernitana non è riuscita poi a portare a casa la vittoria ma comunque un grande pareggio all'Olimpico in una partita che poi si è trasformata in un far west perché loro spingevano disperatamente a caccia di questo gol della vittoria appena sono venuti a conoscenza della penalizzazione dei 10 punti della Juventus nella speranza di tornare in corsa per la qualificazione Champions poi c'è stata quella situazione finale con D.A. che è anche un po' rischiato, forse si poteva anche evitare la reazione dando l'arbitro che aveva fischiato il fallo però voglio dire sono stati momenti concitati, è chiaro che quando sta in campo è difficile frenare certe situazioni magari e anche parte un pochino, certe reazioni sono un po' istintive quindi l'importante è che alla fine in Granata sono riusciti a fare risultato anche con la Roma dopo aver e a prendersi una piccola rivincita rispetto a quella partita della passata stagione dove pure era successo di tutto con un arbitraggio alquanto discutibile e in Granata erano stati poi ribaltati praticamente nel quarto d'ora finale di un match che avrebbero meritato almeno di pareggiare in quell'occasione la Sardinana continua a stupire in questo girone di ritorno ma a stupire fino a un certo punto perché si sapeva che questa squadra aveva le potenzialità per fare un campionato tranquillo, un campionato di centro classifica quasi a ridosso della decima posizione della parte sinistra della classifica purtroppo c'è stato un blackout già a ridosso della sosta per il mondiale e poi con il ritorno in campo a gennaio quel blackout non ha consentito alla Salernitana di avere una classifica sicuramente più importante di quella che è adesso e purtroppo il risultato che sta ammareturando ad Empoli metterà in Granata ancora dietro alla formazione toscana io non credo che la Salernitana sia inferiore al gruppo per carità, tanti giovani di valore, l'Empoli però non credo che sia inferiore complessivamente alla squadra bianca-azzurra e quindi resta diciamo un pizzico di rammarico perché questa squadra secondo me volendo trovare proprio il pelo nell'uovo avrebbe questo arco di partite della gestione di Paolo Sosa dove la squadra veramente è andata su tutti i campi a giocarsela non ha avuto timore reverenziale di nessuno che ha conquistato meno punti di quelli che meritava cioè secondo me la Salernitana per quello che ha dimostrato in queste partite un 42-43 punti li avrebbe meritati senz'altro per quello che è espresso sul campo e nelle ultime due partite avrebbe potuto ancora per carità la possibilità di invinguare e migliorare questo score però magari si sarebbe potuto tenere dietro anche qualche squadra che era partita con ben altre ambizioni però purtroppo ci sono stati un po' qualche episodio sfortunato qualche decisione un po' così altre situazioni che non hanno permesso alla squadra di fare questo ulteriore salto di qualità certo l'importante era conseguire la salvezza e l'ha fatto la Salernitana a differenza dell'anno scorso in grande tranquillità l'anno scorso in questo giorno il 22 maggio arrivava al termine di una serata incredibile dove alla fine sembravano tutti rassegnati dopo i schiaffi che l'Udinese rifilava in continuazione l'Udinese già salva e che non aveva nessun obiettivo particolare rifilava in continuazione a Granata sembrava insomma in tanti erano pronti ad intonare il De Profundis e invece il Cagliari non riuscì a superare il Venezia e arrivò questa miracolosa salvezza oggi invece in questo 22 maggio 2023 le cose sono andate diversamente la Salernitana è scesa in campo forte di una salvezza conquistata in anticipo e determinata, sicura, spavalta contro una Roma che nel primo tempo è stata messa sotto dai Granata è venuta fuori solo nel finale come è anche un po' logico con la forza dei nervi e della disperazione hanno cercato un po' di metterlo anche su ad alzare il tiro dal punto di vista ecco della tensione agonistica per cercare un po' di provocare i giocatori della Salernitana che non sono caduti in questa trappola sì, ci sono state due ammunizioni pesanti Cionber e Danilic erano in diffida da un po' di tempo poi è anche un po' difficile evitare determinate situazioni sicuramente l'arbitro anche su qualche scelta è stato un pochino ha lasciato un po' a desiderare però voglio dire, tutto sommato non è stato determinante ai fini dei risultati sicuramente su qualche punizione, su qualche situazione nel primo tempo soprattutto è andato un po' a senso unico però poi alla fine io credo che nonostante la prova non esaltante è stato aiutato anche dal VAR non avendo visto il fallo di mano di Belotti non abbia inciso in maniera così determinante nel risultato che la Salernitana ha strameritato meritava forse anche qualcosa anche i tre punti ma comunque l'importante è essersi tolte per i Granata essersi per la tifoseria che ha accorsi in gran numero anche allo Stadio Olimpico essere tornati a aver festeggiato questa salvezza con un prestigioso pari contro i giallorossi finalisti tra l'altro dell'Europa League ed essersi tolti anche lo sfizio di fermare l'unica squadra con la quali Granata da quando sono tornati in massima serie non erano riusciti a fare ancora punti anche perché oggettivamente avevano giocato due partiti in casa sempre in formazione d'emergenza con squadre incomplete e poi per quella beffa dell'anno scorso all'Olimpico quindi alla fine mancava solo la Roma allo scalpo Granata dopo il pareggio di Milano con il Milan dopo aver riacciuffato con Andreeva l'Inter alla Regi dopo aver battuto l'Atalanta dopo aver pareggiato allo Stadium con la Juventus insomma dopo aver giocato alla pari con la Fiorentina con un pareggio che fa ancora rabbia e poteva diciamo consentire a Granata magari ecco di avere quei punti in più che meriterebbero in classifica perché ripeto la squadra ha un valore superiore a quello che dice l'attuale classifica io lo dico paradossalmente magari poco importa perché non è che nella sostanza cambia tantissimo la situazione però voglio dire si poteva probabilmente stare avanti a delle squadre che secondo me come gioco come come organico quando non sono quanto meno non sono superiore all'undici di Sousa di Paolo Sousa onestamente questa è la situazione ci sono ancora due partite da giocare c'è da togliersi un sassolino penso con la Ludinese dopo la scoppola dell'anno scorso e Granata se ne sono tolti tanti magari sarà anche questa l'occasione per chiudere alla grande davanti al proprio pubblico questa buona stagione questa discreta stagione poteva essere poteva dare ancora più soddisfazioni ripeto senza quel blackout ma va bene così è una la Sardinitana è un progetto che diciamo che sta crescendo gradualmente sta facendo i passi che deve fare mancano alcune cose importanti ne abbiamo già parlato l'altra volta le strutture che poi permettono anche di avviare un discorso importante per il settore giovanile su questo secondo me bisognerà lavorare con più celerità con più determinazione ma anche da parte non solo della Sardinitana ma anche da parte dell'amministrazione comunale di chi insomma di tutte le figure che ruotano intorno al mondo Granatas solo così si potrà veramente compiere il salto di qualità definitivo quindi queste ultime due partite possono comunque consegnare alla Sardinitana una classifica importante vediamo poi cosa faranno gli altri 6 punti sono alla portata di Granata perché la Cremonese tra l'altro è già retrocessa quindi di Alozzini non vedo non ci sa sicuramente non sarà una partita impossibile per D.A. e compagni e D.A. ha la possibilità ulteriormente di migliorare il proprio bottino e insomma quando si aprirà il mercato sicuramente lui e Coulibaly e qualcun altro sicuramente questi due saranno i fiori all'occhiello del mercato Granata ed avranno tante tante richieste importanti vediamo poi cosa se Iervolino riuscirà a resistere credo difficilmente e cosa diciamo riserverà il futuro sicuramente poi comunque arriveranno risorsi importanti da investire De Santis ha dimostrato e il suo scouting hanno dimostrato di avere l'occhio lungo e magari poi arriveranno dei giocatori che hanno qualità e talento per sostituire anche giocatori così importanti poi c'è qualcuno che sicuramente andrà recuperato mi riferisco a Bodem Bonazzoli Bodem secondo me può dare molto a questa squadra e magari si deve vedere Bonazzoli insomma se può rientrare ancora in questo discorso e ci sono anche altri elementi pareggio importante prestigioso la Salernitana sta chiudendo alla grande il suo campionato vediamo se riesce a migliorare ulteriormente la sua classifica questo è quanto ci risentiamo per il commento di Salernitana Udinese seguici su notiziaodaci.it sulla pagina Facebook su Instagram e Twitter grazie sempre per il seguito grazie a tutti grazie a tutti